Di Stefano, di nuovo buongiorno e benvenuto. Farà brividire sapere che persino Di Maio debba preventivamente recarsi alla City di Londra per abboccarsi con i grandi investitori prima del voto. Farà brividire, sembra davvero che abbiamo bisogno di questa sorta di attenzione, giurisdizione, protezione, copertura in materia economica da parte dei grandi mercati. Di Stefano. Intanto partire da quello che diceva voi prima. L'interdipendenza tra paesi è una cosa ovvia e in questa epoca quasi scontata. Però essere interdipendenti significa avere una mutua convenienza nell'interdipendenza. Se invece tu sei fattilemente suddito non hai una convenienza. Gozzi citava ad esempio, si capiva le sue parole, l'ottimo Macron. Io credo che Macron sia ottimo dal punto di vista degli interessi del suo popolo che sta portando avanti. Ma quando questi interessi ledono quelli altrui, come nel caso del Niger, dove l'Italia va a togliere un po' di castellini dal fuoco alla Francia e non ci guadagna nulla, è allora lì l'Italia dovrebbe pretendere di aver riconosciuto la sua sovranità da tutti i punti di vista, militare, energetica e quant'altro. In questi anni l'interdipendenza europea, di quella internazionale ne avete già parlato abbastanza, immagino, Stati Uniti e quant'altro con l'europea oggi mi interessa di più. Quell'europea si è trasformata in una leadership franco-tedesca e gli altri a ruota. L'Italia ha sbracciato, facendo favori qua e là con i governi, tutti io socialmente, da Berlusconi, Monti, Renzi, Gentiloni, per avere una piccola pettina di torta, e la sta pagando carissima. Allora, e qui mi aggancio all'intervento dell'Alevo Spostatore Pino. Sì, sei ascoltatore, tu nasi su Di Maio Allunga. Quando un leader di un partito che si candida a governare decide di andare a incontrare, ad esempio, andare nella Citi a incontrare investitori, fondi di investimento, la finanza, lo può andare a fare andando a chiedere aiuto, lo può andare a fare invece raccontando quale sarà la tua posizione politica a quella del partito. C'è una grande differenza. Noi stiamo incontrando tutti gli attori internazionali. Cioè non è subalternità la vostra. Lei dice che non è subalternità. La città a Washington e il Maio è andata a dire che noi vogliamo un'Italia che sia di nuovo al centro del Mediterraneo, come una potenza reale, che sappia avere un multilateralismo concreto. E noi dobbiamo ristabilire dei rapporti di porta. Però Di Stefano, posso fare l'obiezione da avvocato del diavolo presente in un paio di messaggi. Quello che diceva Gozzi, io peraltro ho provato a dire, posta così la questione a un dilemma in cui orienta talmente tanto la risposta che è un po' troppo visibile questo orientamento. Però il punto qual è? Se mettere l'Italia nel gruppo di testa di chi deciderà la futura organizzazione dei poteri e quindi le prenderà le decisioni, oppure se come Lega e Movimento 5 Stelle che ingenerano e instillano dubbi continui sull'organizzazione dei poteri europei in generale sull'Unione Europea, renderci invisi al duo franco-tedesco e quindi più deboli di Stefano? Questo è il punto. Allora, intanto dovremmo guardare la realtà in faccia. L'Italia oggi non è forte in Europa. E gli attuali presidenti che abbiamo avuto non ci hanno messo nel gruppo di testa dell'Unione Europea. Oggi contano di più i paesi d'Isegrad come blocco piuttosto che l'Italia. Quando il Movimento 5 Stelle, che non è per nulla assimilabile alla Lega Nord, nel messaggio europeo, perché noi diciamo che noi vogliamo rimanere in Europa ma vogliamo cambiare i paesi, le forze in Europa, allora è un'altra storia già. Quando noi diciamo che andiamo a incontrare in Francia l'apparato di governo francese, andiamo a incontrare gli statunitensi, andiamo a incontrare la Sisi, e proprio perché vogliamo preventivamente raccontare qual è il nostro modello, capire cosa si può fare e iniziare già a portarci avanti col lavoro. Perché sarà un lavoro titanico il riportare l'Italia ad essere leader in Europa. Ma è quello l'obiettivo. E' quello anche perché sappiamo tutti, e questo è il messaggio stupido della Lega Nord, sappiamo tutti che non si può oggi pensare, in cinque anni appena, ad esempio di quanto può essere un governo, di stravolgere tutto l'assetto europeo. Bisogna prima iniziare a capire come modellarlo sulle proprie. Però voi quest'idea, Di Stefano, lo dite oggi, però ieri non lo dicevate, eravate più critici. Ma noi siamo sempre critici riguardo ad alcune strutture dell'Unione Europea. E però perché definisce stupida la proposta della Lega, Di Stefano? A perché non c'è una proposta, B perché dice soltanto usciamo dall'euro, usciamo da tutto. E usciamo, sappiamo perfettamente che con gli accordi, a parte dal trattato di risponere la matica, poi con gli accordi economici di libero scambio e tutto quello che abbiamo dentro la Commissione Europea, o porti un programma che sostiene le tue parole o non c'è una proposta. Loro io non ho mai visto un programma della Lega Nord, sull'uscita dell'Unione Europea. Di Stefano, l'ultima cosa, lei non ha paura nel caso di una vittoria netta all'elezione del 4 marzo del vostro movimento di un'aggressione dei mercati? Io credo che proprio per questo servano gli incontri che sta facendo Luigi Di Maio. Per rassicurare, per rassicurare. Per rassicurare che c'è un progetto preciso che non è disfattista, ma anzi è concreto e serve da riportare l'Italia ad avere un maggior peso in Europa. Che significa però, se lo si fa bene, fare gli interessi di tutti, perché noi vogliamo tutelare gli interessi anche francesi, terrestri di altri paesi dell'Unione, però quegli italiani devono essere per noi il faro guida. Maglio Di Stefano, Movimento 5 Stelle, grazie per aver chiuso la puntata di stamattina di Radio Anch'io. Grazie a voi.